allora non so quanti di voi se lo ricordano nel 94 c'era una pubblicità di un famoso marchio di pneumatici italiani che diceva che la potenza è nulla senza controllo allora scaricare una quantità importante di risorse in un sistema che non è in grado di utilizzarle in maniera efficiente ed efficace può non servire a nulla no butto nel buco nel bidone e sparisce no vince con 60 per cento 40 per cento quindi un po di sfiducia no allora io invece diciamo non dopo questa questa premessa io non sono diciamo ho fiducia e faccio un altro guardo un'altra cosa se vi ricordiamo non so quanti di voi avrebbero pensato non più tardi di siamo a fine giugno non più tardi di il mese di aprile che l'italia sarebbe stata capace di quasi completare la campagna vaccinale entro l'estate no è bastato mettere una persona che capisse di processo e sapesse disegnare un processo ne conoscesse i vincoli per far funzionare le cose ecco basterebbe che diciamo ci fosse una squadra adeguata credo che sia diciamo rappresenti l'esempio di questo tipo di questo tipo di persona volendo provare a fare un paragone con la prima domanda una delle prime domande che mi hai fatto può essere il marchione del nostro paese perché alla fine ha la competenza tecnica è sufficiente molto ben considerato a livello a livello estero a lo stand per poter decidere in maniera indipendente e per far diciamo comunque farsi seguire dalla struttura come diceva Sicilia dovrà avere la capacità forse il pezzo che va completato è avere la capacità di farsi di comporre una squadra che sia in grado di gestire in maniera efficace e non soltanto politica l'utilizzo delle risorse altrimenti potremmo avere qualche problema my view